Il cuore di Sambrek Beh, niente da fare. Credo proprio che servirà una spada più grande. Usa la mia. Ti ringrazio, Clive. Era in senso metaforico. Il nucleo è senza dubbio molto resistente. A Taria verrà un colpo quando saprà che cosa ho fatto. State indietro. Lo spazio non basterà. Sì, così va meglio. Clive, guarda. Che cos'è? Sid! Yvrit. Mi serve Yvrit. Vieni a me. Non posso farcela senza di te. No. Non ti luogo. Dove sei? Resiste. Non ti luogo. Dove diavolo sono? Sono già stato qui. Tu? Ancora tu? Dove sei? Che cosa vuoi? Cazzo, è ancora vivo. Cazzo, è ancora vivo. Cazzo, è ancora vivo. Cazzo. 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 Per le fiamme. Cazzo. 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 Quanti ce ne sono ancora? Merda! 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 Come voi!